Derek, raccontami cosa ha fatto Colin. Colin non vuole vestire. Poi? E poi Colin ha preso il forbice. Poi? Vuole tagliarmi. Io ho sgridato. Abbiamo sgridato tutti noi. Ok. Anche te. Sì. E... Fammi vedere cosa ha fatto con la forbice. Colin vuole tagliarmi... Cosa? Subito in faccia. No, eh? Assolutamente no, eh? Ma sei sicuro? Sì? Vuole tagliarmi... Perché Colin ha... Ho fatto... Sono andato di corsa a fare la pipì e Colin vuole... Voleva spaventarmi. No! Non si fa. Basta. Non si fa. Sono molto arrabbiata. Vai a sgridare. Subito lo sgrido. Adesso voglio sentire e raccontare cosa ha combinato. Va bene? Sì. Ok. Allora, saluto a tutti. Ciao. Ciao. Molto bene.